Allora, dopo la scuola io stamattina mi sono svegliata e pensavo che mio padre mi facesse presto, la mattina il telefono, invece ho scoperto che mi trovavo il telefono la sera, infatti tutta la giornata non ho avuto mai il telefono, solo la sera, infatti io non sto a casa mia, se volete guardare, e allora non vedevo l'ora di prendere questo nuovo telefono che è l'iPhone 6S e finalmente mi hanno regalato.